Leggiamo la motivazione. Tengo così per leggere. Premio Chiara alla Carriera 2024 a Salvatore Accardo per l'inestimabile contributo alla diffusione del grande patrimonio musicale, per l'impareggiabile estrocreativo, per essere uno dei maggiori esponenti della scuola violinistica del Novecento. Luino, 9 giugno 2024. Grazie. Grazie mille. Non so dove la metterà perché ne avrà mille. C'è una stanza a posto. Questa mi raccomando, in tasca. In tasca. Non la butti via. No, non la butti via. Bene, allora noi ci siamo. Abbiamo, siamo arrivati alla conclusione di questo. Bravo, bravissima. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.